Ha partecipato al sit-in dei lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali in deroga davanti alla sede della Prefettura Palermo, prima di prendere parte all'esecutivo provinciale del suo sindacato. Maurizio Landini è nel capoluogo siciliano nel giorno del vertice al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha come oggetto il futuro dell'ex stabilimento Fiat di Termini Merese e dei circa 1.500 lavoratori che vi lavoravano. Sì, tanto sono ancora dipendenti della Fiat fino alla fine dell'anno e noi vogliamo scongiurare che partano le lettere di licenziamento e ci sia la chiusura. E proprio per questo stiamo attendendo ad ore la convocazione del Ministero dello Sviluppo Economico, proprio per riaprire questa discussione e impedire che la Fiat chiude e se ne vada, lasciando senza lavoro 1.500 persone, come purtroppo è la situazione attuale. Sono tante altre le vertenze che vede la FIOM impegnata in campo nella provincia di Palermo. Dalla Fincantiere, la Keller al settore ferroviario stiamo parlando dei settori strategici di questo paese, dove il ruolo del pubblico, oltre che il ruolo delle imprese, può essere decisivo. E noi in questo caso stiamo dicendo in esplicito che bisogna impedire la chiusura di qualsiasi fabbrica, perché tutto ciò che oggi chiude è perso e abbiamo bisogno di riaprire una strada di investimenti, di politica industriale, anche con un intervento pubblico. Questo riguarda il Governo nazionale, ma riguarda anche i governi locali. Occorre incentivare l'uso dei contratti di solidarietà, perché si pone il problema di redistribuire il lavoro che c'è, perché per creare nuovi posti di lavoro intanto bisogna difendere quelli che ci sono, visto che ne stiamo perdendo troppo. Di tutto questo stiamo discutendo e quindi anche la giornata di oggi qui ci si sta interrogando quali iniziative di mobilitazione mettere in campo per non lasciare solo i lavoratori, ma per provare a cambiare davvero la situazione.